ciao finalmente nella tra virgolette parte terza di questa demolizione dei telefoni è rimasto solo un telefono gli altri dove sono finiti tutti buttati eccomi qua gli altri telefoni sono andati tutti via è rimasto solo un bel telefono anzi eccolo qua il nostro amato samsung eccolo qua possiamo vederlo molto buono ancora in funzione con una tastiera tastiera abbastanza facile da scrivere ancora possiamo possiamo scrivere quindi se se mai volete questo telefono tranquillamente contattatemi sulla mia email e ve lo spedisco allora andiamo subito a togliere questo un po' di cose in questo telefono anzitutto il telefono non ci servirà almeno spero che almeno mi serve ne voglio un attimo no va bene non lo voglio andare a sbattere perché altri alimenti ecco qua ecco qua la nostra tastiera il telefono allora andiamo a levare la parte qua ormai ecco qua lo stiamo togliendo per voi anzi lo sto togliendo perché sono solo non ci sta nessuno qui vorrei far comunicare vorrei far comunicare usare il chiaio perché altrimenti non la farò mai ah mamma mia guardate qui che cosa su oh è così eh guardate non mi sto prendendo per il culo scusate ecco qua il nostro telefono questo qua non è a causa della luce questo qua non è a causa della luce guardate questo punto qua non questo non è a causa della luce ecco qua anzi tanti sono i pezzi si ma si si ma si ora ecco qua ok abbiamo il il nostro vento ok abbiamo il nostro vento ma ora io in questo ah in questa cosa anche se una cosa è impossibile da fare in uno di questi scusate no se no dai un attimo un attimo ragazzi un attimo un attimo un attimo dove c'è lì con il nostro un attimo che c'è un attimo ma ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qui abbiamo un attimo ma che è questa ma che è questa adesso ho visto l'attimo dai guardate 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 ragazzi il nostro cinafonino eccolo qua e ancora mamma mia eccolo qua bene ragazzi eh conclusione è stato l'unico del a resistere parti bene io vi saluto anzi voglio un attimo dirvi della pagina che la lascia bene fate quello che volete io continuerò a divertirmi e caricare video ciao ragazzi